Musica Elezioni amministrative ieri sera presentazione delle liste a Montesano con risveglio civico e atteggiano rinnoviamo Diano Buon abitacolo in quattro accusati di abusivismo per la statua Massimo Casanuovo Bandiere blu e viabilità, il punto del presidente della provincia di Salerno Giuseppe Canfora Polla, la Unipolsai di Angelo Greco tra le migliori agenzie di tutto il centro-sud Italia la premiazione a Napoli lo scorso 9 maggio Sala Consilina fino al 18 maggio in proiezione presso il cinema Adriano il film 2 euro l'ora dedicato alla tragedia del materassificio di Montesano Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Uno News in apertura La Politica ieri sera presso il ristorante La Marchesina di Pantano di Teggiano apertura ufficiale della campagna elettorale della lista Rinnoviamo Diano con candidato sindaco Rocco Cimino al termine della presentazione è stata annunciata l'inaugurazione per questa sera del comitato elettorale a Prato Perillo di Teggiano Ieri sera a Pantano di Teggiano è stata ufficialmente aperta la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative del 5 giugno a dare inizio a questo periodo in cui i candidati si presentano alla cittadinanza è stata la lista Rinnoviamo Diano con candidato sindaco l'uscente Rocco Cimino presso il ristorante La Marchesina di Pantano di Teggiano il candidato alla carica di primo cittadino Cimino ha deciso di presentarsi ai tegianesi rispondendo alle domande di Lorenzo Peluso direttore di quasi mezzogiorno.it nonché giornalista di Radio Alfa che dal canto suo ha cercato di interpretare gli interrogativi di una cittadinanza che a distanza di due anni si appresta a recarsi nuovamente alle urne per eleggere i suoi rappresentanti dopo lo scioglimento del Consiglio a seguito delle dimissioni di tre consiglieri di maggioranza non più candidati in nessuna delle liste in campo e di quattro consiglieri della minoranza tra i quali anche il candidato della lista contrapposta a Cimino dopo un lungo colloquio in cui Rocco Cimino con estrema pacatezza, rispetto e tranquillità ha risposto alle domande di Peluso si è passate alla presentazione dei candidati alla carica di consigliere della lista Rinnoviamo Diano che sostengono il candidato sindaco Cimino la serata si è conclusa con un buffet e con l'annuncio da parte di Rocco Cimino dell'inaugurazione per questa sera della sede del comitato elettorale alle ore 20 e 30 a Prato Perillo di Teggiano in via provinciale Teggiano-Polla presso l'ex Sartoria l'inaugurazione della nuova sede elettorale della lista Rinnoviamo Diano Noi siamo qui a continuare un percorso che già è iniziato due anni fa per il quale ci siamo spesi già in questi due anni avendo già realizzato delle cose ma è un cammino interrotto a meno della metà avevamo il diritto ma soprattutto il dovere di rappresentarci per portare avanti quel programma per cui la gente ci ha tributato di un consenso elettorale eccezionale e quindi eccoci qua ancora questa sera comportati da questa cornice di pubblico meravigliosa a caricarci e a farci credere veramente che a Teggiano si può perché Teggiano ha tante potenzialità però bisogna liberarlo da certe incrostazioni che in questi anni lo hanno tenuto un poco avviluppato che sono i pregiudizi, che sono i piccoli interessi che sono il voto fatto in un certo modo cioè una serie di piccole cose che elencheremo in questa campagna elettorale noi vogliamo liberare Teggiano da questo perché il nostro rinnovamento parte innanzitutto da un rinnovamento culturale perché questa è una città che insiste in un territorio meraviglioso quello del Vallo di Diano che come dicevo prima ha grandi capacità noi dobbiamo avere soltanto il merito di poterle far emergere di poterle consegnare alle nuove generazioni che non debbano più emigrare per trovare lavoro la ricchezza è qui, è in questo territorio e noi faremo di tutto per consegnarla alla gente che la abita Ora parliamo della squadra una squadra per gran parte composta comunque da chi già vi ha sostenuto già è stato con voi a vostro fianco vicino a Perteggiano com'è composta, quali sono le eccellenze di questa vostra squadra? è una squadra fatta tutta di eccellenze ci sono i vecchi che già hanno sperimentato con noi questa avventura che è stata faticosa ma anche esaltante per certi versi e poi ci sono dei giovani con un entusiasmo straordinario perché sono loro a caricare me e non il contrario io credo che questa squadra andrà veramente avanti spedita verso un grande successo elettorale Ieri sera presso l'aula consigliare di Montesano sulla Marcellana il candidato sindaco Renivaldo Lagreca ha presentato il gruppo che compone la lista a lui legata risveglio civico alle prossime elezioni amministrative del 5 giugno dando così ufficialmente il via anche alla sua campagna elettorale non è una lista civica semplicemente ma è un vero e proprio progetto politico per Montesano un progetto politico fatto di competenza di volontà di buona amministrazione il programma è amplio l'ambiente è per noi un cruccio io colgo l'invito volto da qualche parte a dire no terna e dico no terna c'è la centrale SNAM posta là da diversi anni che nessuno mai ha monitorato vi sono le altre tematiche ambientali il ciclo dei rifiuti i rifiuti sono qualcosa di molto costoso a Montesano sulla Marcellana va implementata la raccolta e ridotto al minimo il costo per i cittadini ma va ridotta ancora la pressione fiscale non è possibile che Montesano paghi i montesanesi paghino il massimo di addizionale IRPEF va ridotta l'imposta sulla casa ho l'onore di avere nella mia lista persone di altissima qualità di primissimo ordine e torno a dire anche due persone che sono fuori uscite dall'ex maggioranza ma dirò nome e cognome c'è Rosa Campiglia è già assessore nella precedente nell'ex maggioranza è infermiere è donna molto sensibile per le tematiche sociali vi è Cestario Giuseppe imprenditore da molti anni come anche Cestari Pasquale un giovane imprenditore che hanno persone che hanno qua investito e hanno deciso a Montesano di fare l'impresa Cozza Amanda la dottoressa Amanda Cozza è il revisore legale ed è dottore commercialista con grandi esperienze all'estero e nel nord Italia ha deciso di tornare a Montesano perché ha la passione vera del suo paese da Cundi Giuseppe da Cundi Giuseppe è il avvocato giovanissimo giovane avvocato ottimo professionista Dalvano Michele è l'altro ramo vivo non è un ramo secco è uno dei rami più vivi persone di grande sensibilità di grande compostezza ma anche persone di grande dinamismo non c'è persona che lo ha chiamato nei cinque anni passati che non ha avuto una risposta ed è l'altro ramo buono che è venuto a noi dall'ex maggioranza ancora l'avvocato Rosanna D'Antuono mamma di figli persona che ha studiato e con la presenza della famiglia molto impegnata nel settore educativo della scuola dell'elemento scolastico l'avvocato Tilde Di Pierri che ha lasciato il foro da qualche anno per prendere invece la posizione all'interno del pubblico impiego al momento è distaccata presso il comune di Padula sempre con funzione a Picali ancora Dario Gallo Dario Gallo è il più giovane della lista è un giovane che parimente è ritornato a Montesano perché dice a Montesano si vive bene è un imprenditore agricolo poco più che ventenne già sperimenta il significato dell'imprenditoria significato dell'investimento economico e del lavoro in questo paese Maioanna è un insegnante ha lavorato fuori Montesano si è formata a Montesano particolarmente sensibile per i temi dell'educazione infantile e della cultura Paolo Maniglia Paolo Maniglia è un professionista di premesso morde un avvocato giovane avvocato si è laureato con una tesi interessantissima di diritto commerciale in materia di consorsi ed è persona di grande carattere e determinazione infine abbiamo Rosa Paradiso una professoressa dirigente scolastica che parimenti intende investire a mettere a disposizione di Montesano e della cittadinanza la propria cultura e la propria professionalità io sono orgoglioso anzi sono onorato di guidare questa squadra per l'installazione del monumento dedicato alla memoria del giovane Massimo Casalnuovo la procura della Repubblica di Lago Negro ha notificato l'avviso di conclusioni delle indagini all'ex sindaco Elia Rinaldi all'ex vice sindaco Barbara Lapenta l'ex assessore Carlo Bianco e Osvaldo Casalnuovo padre del giovane Massimo tutti accusati di abusivismo vediamo si apre un nuovo capitolo nella vicenda di Massimo Casalnuovo il giovane di Buonabitacolo deceduto nel 2011 cadendo dallo scooter dopo un posto di blocco dei carabinieri nei pressi del luogo della tragedia fu installata una statua in sua memoria e per questo furono accusati di abusivismo quattro persone l'ex sindaco Elia Rinaldi l'ex vice sindaco Barbara Lapenta l'ex assessore Carlo Bianco e Osvaldo Casalnuo padre di Massimo la procura di Lago Negro in questi giorni ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini i quattro coinvolti nella vicenda sono tutti accusati a vario titolo di aver realizzato l'opera in modo abusivo e senza le autorizzazioni necessarie nello specifico il padre del ragazzo è stato indagato quale committente dell'opera realizzata senza i necessari permessi di costruire in zona sottoposta a vincolo pasiaggistico ambientale alterando così la bellezza naturale di località sottoposte a speciale protezione e occupando arbitrariamente il solo pubblico di buon abitacolo l'ex sindaco l'ex vice sindaco e l'ex assessore sono invece indagati per aver concesso l'installazione dell'opera in zona agricola quindi incompatibile in quanto senza la necessaria variante urbanistica e senza l'autorizzazione paesaggistica della soprendendenza viene loro contestato inoltre il concorso in abuso d'ufficio gli indagati hanno 20 giorni di tempo per depositare le memorie difensive in merito alle accuse ancora cronaca i carabinieri della compagnia di sala consiglina in azione nei territori di Padula e Tegiano la scorsa notte il bilancio di due persone denunciate e una sanzione da 3.000 euro continua il lavoro di repressione dei reati di ogni genere da parte dei militari della compagnia dei carabinieri di sala consiglina guidati dal capitano Emanuele Corda gli ultimi episodi in ordine di tempo hanno visto impegnate le forze dell'ordine sui territori dei comuni di Padula e Tegiano in particolare l'anno scorsa notte i militari del nord della compagnia nell'ambito di specifici servizi tesi a reprimere la commissione di furti hanno denunciato in stato di libertà due ragazzi di Padula i due sottoposti a perquisizione veicolare nei pressi di abitazioni isolate sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso a Tegiano invece sempre i militari del nord della compagnia con il supporto del nucleo ispettorato del lavoro nell'ambito di specifici controlli tesi a reprimere il fenomeno del lavoro nero hanno elevato una sanzione amministrativa di circa 3.000 euro nei confronti di un'agenzia funebre di Tegiano in quanto è risultata impiegare un lavoratore non regolarmente assunto diverse inoltre sono stati controlli effettuati a varie attività commerciali e cambiamo ora argomento parliamo di economia e riforma la BCC di Buonabitacolo con il direttore generale Angelo De Luca e il neoletto presidente Pasquale Gentile è stata protagonista a Salerno nel corso di un convegno organizzato dal club Rotary Salerno Est presso la Camera di Commercio durante l'incontro si è parlato dello stato dell'economia italiana e del sistema bancario grazie anche alla presenza di Alessandro Profumo Anche la BCC di Buonabitacolo ieri è stata protagonista di un incontro promosso dal club Rotary Salerno Est preseduto da Pierluigi Carraro e svoltosi presso la Camera di Commercio di Salerno nel corso del quale è stato approfondito il tema della riforma delle BCC e dello stato dell'economia in Italia presente all'incontro come relatore anche Alessandro Profumo presidente di Equitasim banchiere e dirigente d'azienda italiano che ha ricoperto delicati e prestigiosi incarichi nel mondo economico e finanziario nel 2003 con Giovanni Moro ha firmato il saggio sulla responsabilità sociale dell'impresa intitolato Plus Valori nel 2004 è stato insignito dal presidente Carlo Azzaglio Ciampi del titolo di Cavaliere del Lavoro e nel 2005 Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana il tema affrontato nella giornata di ieri è stato lo stato di salute dell'economia e del sistema bancario nel quale Profumo ha voluto evidenziare come nonostante il periodo di recessione il sistema bancario italiano resta solido ed ha dimostrato una buona capacità di resilienza resistente ai contraccolpi e adattandosi ai cambiamenti si è parlato anche dei mutamenti introdotti nel nostro paese nel settore bancario come la riforma delle banche popolari l'autoriforma delle fondazioni bancari sostenuta dal governo la riforma delle banche di credito cooperativo su quest'ultimo tema in particolare Alessandro Profumo ha chiesto l'intervento in merito di Angelo De Luca direttore generale della BCC di Buonabitacolo la riforma delle BCC è un passo epocale ha riferito il direttore De Luca un insieme di misure che porterà a rinnovare e rafforzare profondamente il settore il governo secondo il Ministero dell'Economia e della Finanza è intervenuto con una strategia fondata su tre assi il consolidamento del settore bancario attraverso la riforma delle maggiori banche popolari la riforma delle fondazioni bancarie la riforma delle banche di credito cooperativo banche più grandi più forti e più trasparenti che secondo il governo sosterranno la ripresa e forniranno servizi migliori a famiglie imprese e gestiranno con più efficienza i crediti deteriorati l'auspicio è quindi anche della riduzione dei tempi di recupero dei crediti che in Italia sono storicamente più altri che altrove noi conclude il direttore De Luca siamo pronti a questa sfida che proveremo a gestire da protagonisti presente all'appuntamento anche il presidente della BCC di Buonabitacolo l'avvocato Pasquale Gentile la nostra speranza spiega l'avvocato Gentile è che l'evoluzione del sistema bancario nel nostro paese contribuisca all'attrattività di investimenti ed alla crescita del tessuto economico e sociale a questo proposito l'Aibe Associazione Italiana delle Banche Estere ha pubblicato uno studio che dimostra come l'index 2016 indice sintetico che misura l'attrattività del sistema Italia sia passato da un valore di 33,2 registrato nel 2014 all'attuale 47,8 lungo una scala che va da un minimo di 0 ad un massimo di 100 segnando così un incremento di oltre 14 punti un buon auspicio ha concluso il presidente Gentile ora tocca a noi scommettere e resistere noi come BCC lo faremo il presidente della provincia di Salerno Giuseppe Canfora ha sollecitato ai microfoni di Giuseppe Opromolla risponde alle domande dedicate alla viabilità asserendo che molti sono i punti critici ma che con il patto per il sud arriveranno fondi per ovviare al dissesto idrogeologico Intanto fatemi complimentare con tutti i comuni della costa del Cilento e non solo ma di tutti i comuni costieri della Campania perché sono ben 15 le bandiere blu ben 11 appartengono al Cilento e questo ci dice che lo stato delle acque marine è degno e in buona salute e ci dice anche indirettamente che le amministrazioni locali stanno facendo un buon lavoro un ottimo lavoro per i propri territori io ho qualche altra notizia buona da dare nel senso che con il patto per il sud sottoscritto dal governatore un po' di settimane fa sapete che l'importo in miliardi di euro sono notevoli sono 9 miliardi di euro più 2 miliardi e 700 proprio per sottoscrivere il patto è che in questo patto ci sono fondi per i comparti di depurazione non soltanto della costiera ma anche del bussento quindi voglio dire noi ci stiamo avviando veramente in maniera in maniera veloce anche in maniera intelligente sagace alla risoluzione di problemi atavici di problemi seri quali la depurazione delle acque e quali il disinguinamento non soltanto della costa della divina costiera della costa amalfitana ma anche del golfo di salerno e anche di zone più a sud del golfo di salerno stesso ritorno sulla viabilità perché la domanda perché la domanda che mi ponevi certo ci rendiamo perfettamente conto che la cilentana rappresenta il primo passo che è stato fatto per riannodare il nord di Agropoli con il nord di Salerno con il sud di Salerno per cui sicuramente è un'opera importante che finalmente è avviata a soluzione in queste ore abbiamo vinto anche l'ennesimo ricorso al TAR per cui possiamo stare tutti tranquilli che il lavoro va avanti ci rendiamo conto che bisogna necessariamente intervenire su tantissimi altri punti critici dovuti in parte alla viabilità dovuti in parte al dissesto idrogeologico sempre attraverso il patto per il sud attraverso il dissesto idrogeologico spero con tutto il cuore da subito partiranno diversi interventi per lo meno 7-8 interventi per questa zona partiranno dopodiché sicuramente attraverso il patto per il sud attraverso il governatore De Luca attraverso la regione Campania troveremo anche i fondi messi a disposizione per il dissesto idrogeologico aggiungo noi stiamo discutendo anche sull'altra serie importante che è la Fondovalle Calore e anche sulla Pisciottana cioè proprio in questi giorni faremo una conferenza di servizio sull'ultimo tratto il tratto del viadotto dove la sovrintendenza aveva sollevato qualche problema mi sembra che l'ufficio tecnico ha risposto positivamente ci sarà un'ennesima conferenza di servizio e avendo risposto in maniera soddisfacente alla sovrintendenza molto ma molto probabilmente riprenderemo anche il discorso sulla Pisciottana Ancora trasporti la regione ha annunciato servizi di link con autobus per collegare il Cilento con l'alta velocità di Salerno e il comitato pro ferrovia della Siciniano Lago Negro scrive all'assessore Corrado Matera per attivare un servizio simile all'Eurostar Link nel Vallo di Diano che a differenza del Cilento è sprovvisto di linea ferroviaria In un articolo pubblicato nei giorni scorsi sul quotidiano La Città si annunciava che la regione istituirà servizi di link con autobus ai treni ad alta velocità in arrivo e partenza a Salerno Saranno tre le linee di autobus che garantiranno l'alta velocità nel Salernitano e a partire dal 18 giugno fino al 30 settembre renderanno più facilmente raggiungibili le località costiere ed interesse turistico del Cilento L'iniziativa è collegata al progetto Cilento Blue Club promosso dalla regione e relativo al metro del mare a seguito di questa notizia il comitato per la riattivazione della ferrovia sicignano Lago Negro ha inviato una lettera all'assessore regionale al turismo Corrado Matera formulando una proposta concreta già attuata anni fa da Trenitalia con il servizio Eurostar Link Si chiede infatti l'attivazione di servizi di collegamento veloce con autobus Trenitalia colleganti le stazioni di Polla quindi le grotte di Pertosauletta Sassano-Teggiano Padula in coincidenza con la partenza e l'arrivo dei Frecciarossa e Frecciargento a Salerno Dal comitato inoltre sottolineano un aspetto importante se il servizio di Link fosse garantito da vettori con autobus privati e non di Trenitalia i viaggiatori provenienti dal Vallodidiano non avrebbero diritto ad alcun rimborso o riprotezione gratuita con un altro treno ad alta velocità Trenitalia in caso di perdita della coincidenza per ritardo dell'autobus come invece previsto dalle vigenti condizioni e tariffe viaggiatori di Trenitalia la proposta del comitato punta ad estendere al Vallodidiano un servizio simile al vecchio Eurostar Link oggi effettuato da nuovo trasporto viaggiatori con il servizio Italobus che è attivo su alcune tratte con un servizio di autobus affidato ad una ditta fiduciaria e che tocca anche Salerno inoltre con questo servizio vengono rispettate tutte le condizioni e le tariffe vigenti per i viaggiatori Trenitalia il Vallodidiano resterebbe così un po' meno isolato Bentornati alla seconda parte del nostro TG lunedì scorso 9 maggio si è tenuto a Napoli presso la mostra d'Oltremare l'evento annuale della Unipol SAI che vede tutte le agenzie del centro-sud Italia riunite per presentare e conoscere i dati totali relativi all'anno appena trascorso quindi in questo caso all'anno 2015 in occasione del Roadshow con noi 2016 questo il nome del contest sono anche state premiate le agenzie che hanno ottenuto i migliori risultati nell'anno 2015 tra le premiate anche l'agenzia Unipol SAI di Polla di Angelo Greco che è il risultato che si è distinta particolarmente in tema di risultati ottenuti nello scorso anno vediamo non era prevedibile eppure l'agenzia Unipol SAI di Angelo Greco è riuscita nel 2015 a raggiungere risultati straordinari superiori anche ad agenzie che operano in territori decisamente più vasti e più competitivi a Napoli presso la mostra d'oltremare nel corso del contest Roadshow con noi 2016 evento che si svolge ogni anno riunendo tutti i responsabili di agenzie Unipol SAI del centro sud Italia circa mille l'agenzia Unipol SAI di Angelo Greco di Polla ha ricevuto il premio contest Banco Smart per le azioni e i risultati ottenuti nel 2015 la direzione generale presente all'appuntamento di Napoli si è complimentata con l'agenzia di Angelo Greco e con i suoi collaboratori per il grande lavoro e svolto che ha portato al raggiungimento di risultati che si sono rivelati davvero eccezionali delle circa mille agenzie presenti sul territorio del centro sud Italia e che sono state sottoposte dalla direzione alla valutazione dei dati soltanto 30 sono riuscite ad emergere in modo significativo e tra queste 30 c'è anche Unipol SAI di Polla grande soddisfazione per Angelo Greco che ha voluto portare con sé a Napoli al ritiro del premio anche i suoi collaboratori e quanti insieme a lui ai suoi figli Antonio e Sebastiano e alla moglie Enia lavorano per riuscire ad individuare e a rispondere con celerità alle esigenze e alle necessità della propria clientela Praticamente il 9 maggio presso la mostra d'oltremare di Napoli si è tenuta una cerimonia di premiazione di alcune agenzie del centro sud Italia siamo in circa mille agenzie e il 9 maggio ne sono state premiate nella Trentina i risultati produttivi dell'anno 2015 hanno fatto sì che emergessero le agenzie che hanno che hanno avuto un'ottima produzione in questo periodo io devo ringraziare fortemente la mia squadra sono circa 30 consulenti tutta la struttura organizzativa che lavora con impegno nel nostro territorio anche se i nostri sono piccoli comuni però queste persone insomma lavorano con impegno noi cerchiamo di fare il nostro meglio cerchiamo di di svolgere la nostra attività con professionalità tanto la migliore consulenza che i nostri clienti richiedono e di cui hanno bisogno quindi il nostro impegno è quello dare la migliore consulenza per far sì che le imprese i cittadini le famiglie possano godere di una copertura assicurativa tutto tondo spendendo il meno possibile noi abbiamo organizzato con un pulmino questa giornata portando tutti i collaboratori lì presso la struttura della mostra d'oltremare di Napoli dove chiaramente ci stavano gli organi della direzione generale dove c'è stata una manifestazione veramente molto bella e poi chiaramente riuscire a portare a casa da questa manifestazione pure un premio è positivo andiamo ora a Sala Consilina dove ieri sera presso il Cinema Adriano si è tenuta la prima proiezione del film 2 euro l'ora del regista salernitano Andrea D'Ambrosio che racconta la storia delle operaie Anna Maria Mercadante Giovanna Curcio morte nell'incendio divampato nel materassificio Bimaltex di Montesano Scalo nel 2006 un film che ha già riscosso un gran numero di apprezzamento per l'importante storia raccontata e per il messaggio che il regista vuole lanciare fino a mercoledì 18 sarà possibile assistere al film in proiezione presso il Cinema Adriano è iniziata ieri sera e continuerà fino a mercoledì 18 la proiezione presso il Cinema Adriano a Sala Consilina del film che ricorda la tragedia del materassificio di Montesano Scalo dove nel 2006 morirono due donne mentre erano impegnate al lavoro la storia di Anna Maria Mercadante di 49 anni e della giovanissima Giovanna Curcio di appena 15 anni con la morte giunta per soffocamento a seguito dell'incendio divampato all'interno del materassificio BIM Maltex ha attirato l'attenzione dei media nazionali e internazionali e per raccontare la vicenda e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'attenzione e sul rispetto delle regole in materia di sicurezza del lavoro Andrea D'Ambrosio regista salernitano ha realizzato un film dal titolo significativo 2 euro all'ora in questi giorni a quasi 10 anni dei tragici fatti che costarono la vita alle due donne il film è in proiezione presso il cinema Adriano prodotto da ACAB Film in collaborazione con Rai Cinema e grazie al contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali è presentato in anteprima nazionale a Bari in occasione del Bari International Film Festival il lungometraggio in quest'occasione è stato premiato con premio laudadio per il regista del miglior film e con il premio artisti 7607 per la migliore attrice protagonista Chiara Baffi ed ha da subito ottenuto importanti consensi dal pubblico per la storia raccontata e per il toccante e significativo modo in cui il regista ha riportato i fatti che hanno condotto alla morte delle due donne l'importanza di un lavoro ma anche la necessità di farlo in modo dignitoso e poi naturalmente l'importanza della vita umana questi alcuni elementi che emergono chiari in un film particolarmente toccante di grande interesse con cui il regista Salernitano oltre a voler raccontare la vicenda che ha colpito in primis il Vallo di Diano protagonista dell'evento di Cronaca ma tutta Italia ha voluto soprattutto riaccendere i riflettori sul tema della sicurezza dei posti di lavoro 2 euro l'ora ha spiegato il regista Andrea D'Ambrosio scritto insieme alla sceneggiatrice Donata Carelli è un film che parla del sud di lavoro d'amore e della giovinezza che fugge di donne che lottano e sperano in una vita diversa e migliore ringrazio continua la squadra che mi ha sostenuto e gli attori che sono riusciti a darmi forza ed entusiasmo durante i faticosi e meravigliosi giorni di ripresa in Irpinia il mio premio è il loro premio il film resterà in proiezione presso il Cinema Adriano a Sala Consilina fino a mercoledì 18 maggio e nel fine settimana saranno intensificati gli orari di proiezione sabato e domenica infatti sarà possibile vedere il film alle ore 17 alle ore 19 e ultimo spettacolo alle ore 21 stessi orari anche per mercoledì 18 ultimo giorno di proiezione nei giorni di giovedì venerdì lunedì e martedì sarà possibile assistere agli spettacoli negli orari delle 19 e delle 21 andiamo ora a Pertosa al Museo del Suolo iniziano le attività di ricerca che coinvolgono studenti e docenti delle università campane e lucane grande entusiasmo da parte di tutti in particolare del presidente della Fondazione Mida Francesco Antonio Dorilia Al Museo del Suolo di Pertosa sono state avviate attività di ricerca con gli studenti del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II dall'8 al 10 maggio infatti sono stati ospitati 20 studenti del corso di pedologia i quali insieme al loro docente il professor Fabio Terribile hanno condotto la campagna di rilevamento e campionamento dei suoli nei comuni di Auletto e Pertosa alla scoperta delle caratteristiche più nascoste del patrimonio ambientale del nostro territorio l'evento è stato condotto con grande passione dagli studenti e da tutti gli operatori coinvolti l'endusiasmo collettivo che ha accompagnato questa importante esperienza hanno dichiarato il presidente del Mida Francesco Antonio Dorilia e il professor Terribile coordinatore del progetto di studio anima il museo di profonda motivazione a proseguire e arricchire le sue attività investendo sempre più nella formazione delle generazioni future a cui va lasciata l'eredità di un patrimonio fondamentale al sostegno della nostra vita inoltre nella giornata del 10 maggio il museo ha ospitato un'esercitazione condotta dalla professoressa Laura Scrano coinvolgendo gli studenti del corso di laurea per operatori dei beni culturali dell'università degli studi della Basilicata tutte queste attività dimostrano che il museo è il centro propulsore della divulgazione e produzione della cultura del suolo tra l'altro il suo successo è confermato dal numero di visite più di 2000 presenze sono state registrate a poco più di un mese dall'apertura passiamo ora allo sport con il calcio mancano 180 minuti alla fine della stagione regolare domani pomeriggio tutti in campo alle 16 e 30 campi principali il Voria di Cicerale e il Medici di Polla penultima giornata del campionato di prima categoria Girone G che andrà in scena come sempre per le ultime quattro gare del torneo in contemporanea su tutti i campi il sabato di calcio valido per la ventinovesima giornata vedrà i fari puntati su due sfide principali alla Voria di Cicerale sarà impegnata la capolista Santa Cecilia in quello che alla luce del calendario dovrebbe essere l'ultimo ostacolo prima della promozione altro campo principale è lo stadio Medici di Polla dove andrà in scena il derby valdianese tra Pollese e Montesano la squadra di Mr. Pidone vuole i tre punti e attende buone notizie dalla sfida di Cicerale è stata una settimana travagliata per le due contendenti del torneo che si sono sfidate a colpi di comunicati stampa oggetto del contendere l'assenza di pronunce da parte del giudice sportivo in merito al ricorso della Santa Cecilia dopo la partita persa nel girone d'andata in casa del Montesano per 3-0 oltre un girone d'attesa è ancora nulla all'orizzonte con la paventata ipotesi che tutto possa essere cambiato all'indomani dell'ultima gara della stagione regolare la Pollese dal canto suo dopo l'exploit esterno in casa della nuova San Vito Sapri cerca continuità e vantaggio del fattore campo nei play-out per ottenere questo benefit dovrà fare punti e chiudere il campionato almeno al terzultimo posto l'altra valdianese il certoso di Padula sarà di scena sul campo dell'alfanese dove sarà necessario non perdere anche se nel caso in cui le Ryan dovesse perdere contro la Gregoriana in casa i Granata potrebbero festeggiare la permanenza in categoria con un turno d'anticipo e senza attendere lo scontro diretto in programma la prossima settimana e con lo sport termina il nostro TG io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti